Dopo le polemiche a te eravamo ieri il sindaco D'Alberto e l'assessore Tulli hanno mangiato in mensa, voi? Purtroppo qui non credo sarà possibile, perlomeno non nell'immediato, perché come anche riportato dal comitato dei genitori, che tra l'altro noi stiamo affiancando già da oltre un anno, perché già un anno fa comunque erano state portate delle sollecitazioni, non solo per la mensa ma anche per la gestione del servizio mensa. Purtroppo lavori iniziati addirittura a fine dello scorso anno scolastico, quindi nel 2023, come opposizione avevamo fatto subito notare in Consiglio Comunale che ci sembrava assurdo iniziare dei lavori qualche settimana prima della riapertura, perché poi l'estate con le ferie di mezzo passa molto velocemente, ma l'assessore Monticelli, l'assessore ai lavori pubblici, ci aveva garantito con serenità che i lavori sarebbero stati riconsegnati al massimo entro la fine del 2023 o agli inizi del 2024. Successivamente, in ulteriori interrogazioni, il tempo era traslato e quindi si era arrivati a primavera, solo qualche mese dopo ho avuto il coraggio di dirci che probabilmente o quasi sicuramente la mensa sarebbe stata pienamente operativa a partire dal nuovo anno scolastico. Ma l'anno scolastico è arrivato, la mensa è ancora un cantiere aperto e la cosa che ci preoccupa è che io non vedo sinceramente luce per quest'opera, perlomeno nel breve periodo, perché da quanto ci risulta anche nel capitolato di spesa non sono stati ancora imputati ed impegnati gli importi da dedicare poi all'acquisto delle attrezzature della mensa. Quindi anche qualora dovessero finire nei prossimi mesi la parte strutturale dovrà comunque essere completata con gli arredi e poi superare tutte le fasi di collaudo che sono necessarie. Quindi ad oggi la mensa per il nuovo anno scolastico è nuovamente non usufruibile e i ragazzi sono costretti a mangiare sui banchi di scuola dove stanno già parecchie ore. Non possiamo dimenticare il trasporto scolastico? Il trasporto scolastico è un altro segnale di come viene gestita anche la quotidianità in questo territorio perché oltre al fatto che a nostro avviso se c'è da fare una scelta anche all'interno del bilancio perché tutte le amministrazioni purtroppo è un dato di fatto che spesso e volentieri si trovano a dover fare delle scelte ma non si può tagliare a discapito del sociale soprattutto dei ragazzi. Quindi la polemica che è nata dai genitori deriva dal fatto che per questioni di bilancio si è stati costretti a interrompere un servizio con una cooperativa che forniva appunto un pullman aggiuntivo, cosa che oggi non c'è. Si è passati da 3 a 2 giusto? Esatto, sul versante Tordino. Questo ha comportato ovviamente il fatto di dover adeguare gli orari ma la cosa più grave, che non è solo il fatto di anticipare 10 o 20 minuti è che i ragazzi arrivano anticipatamente a scuola e quindi c'è una sorta di prescuola non autorizzato però dai genitori perché non era stato affatto comunicato e questo credo che poi al di là degli orari vada ad inficiare sulla sicurezza e sulla tutela dei nostri ragazzi e questo non deve accadere. Questo perché, ripeto, manca sempre la comunicazione da parte dell'amministrazione.